I punti non si credevano, c'erano una volta Giacomo e Francesco, due bambini, che andavano a scuola ogni giorno. Antonio e Vittoria piaceva andare a scuola, Antonio e Vittoria dopo la scuola andavano al parco, un giorno però arrivò da molto lontano un piccolo puntino che si credeva un re, ma un re cattivo che voleva governare. Tutto è tutto, nessuno ha colpito, diciamo, tutti i negozi, le scuole e i parchi vengono chiusi. Così le mamme, i papà e i nonni le stavano a casa come hanno fatto vincenze e salmina. Potere dello scudo, potere delle mani pulite, potere della mascherina, potere della speranza. Intanto il re andava in giro a spaventare tutti, diventando sempre più arrabbiato, ma con il tempo... Grazie per poter, bambini, diventando sempre più piccolo figlio, quando che... Puff! Spai! Giulia, Vincenzo e Francesca organizzarono una grande festa. Invitarono i nonni e i loro amici per potersi riabbracciare.